Mi piacerebbe oggi parlare dell'acquarello in maniera semplice, o meglio, avere una simulazione di quello che potrebbe essere il primo approccio che noi possiamo avere con questa tecnica, con l'acquarello appunto. Vedete questi pigmenti? Sono in delle vaschette e si chiamano godet, a differenza dell'altro acquarello che si trova in tubetto, ma sono gli stessi pigmenti. La cosa interessante dell'acquarello è il fatto che questi pigmenti rimangono sempre inalteratamente, se si può usare questo termine, vivi, oppure che noi possiamo tramite l'acqua farli rinascere in qualsiasi momento. Quindi un dipinto in acquarello, o in acquerello, come meglio dire, può essere, se va l'acqua sopra, fatto rinascere sempre, in qualsiasi momento, cosa che ovviamente non accade con gli acrilici e non accade con i colori ad olio. Ad esempio, noi possiamo avere un certo tipo di approccio. Abbiamo un pennello di questo tipo che ha un grande serbatoio, cioè una pancia abbastanza grande per contenere abbastanza pigmento e una punta sottile che ci permette di variare il segno da piccolo a grande. La tecnica dell'acquarello? Sarebbe strano dire che questa non esiste, o meglio, che le tecniche tutte non esistono. Le tecniche fanno parte di un processo di apprendimento legato alla tradizione. È chiaro che se la nostra tradizione va in un verso, quelli che vengono dopo apprendono l'acquarello o il modo di dipingere in modo tale da avvicinarsi ai predecessori, perché loro hanno ottenuto dei buoni risultati facendo questo tipo di esperienza. Quindi noi non possiamo far altro che dire che noi ci adeguiamo o meno alla tradizione, cioè seguiamo quello che la tradizione ci dice perché l'esperienza ha giocato un ruolo fondamentale e gioca un ruolo fondamentale sul nostro apprendimento. Per cui noi sappiamo che l'acquarello, lo dice anche il nome stesso, ha bisogno di molta acqua ed è il rapporto fra questa acqua e il pigmento che è fondamentale. Se io prendo il pennello, lo metto su una superficie completamente asciutta, com'è questa, io otterrò questo segno e cioè nulla, perché non è stata bagnata con l'acqua. Ovviamente posso provare con un'altra superficie, ma otterrò lo stesso risultato. Quindi ho bisogno dell'acqua. Questi colori che voi vedete qui sono tracce di acquarello che io ho lasciato e ovviamente se io passo sopra il pennello non ho la possibilità di farli rinascere. Ma basta che io prenda un piccolo quantitativo di acqua e io ho subito, subito, la palpabile, la palpabile situazione che vede i miei occhi che questi colori si stanno ravvivendo. Quindi sono esattamente come io quando li ho posati. Adesso tra un po' questo si seccherà e manterrà questa forma. Per cui qualsiasi cosa che noi facciamo sul nostro foglio di carta avrà la possibilità di essere ritoccata purtroppo o per fortuna se noi non diamo naturalmente sopra alla fine uno strato protettivo. Oppure non lo proteggiamo con un vetro o con un materiale trasparente da poter essere fruibile da chi lo guarda. Ma adesso vediamo veramente cosa succede quando io prendo questo pennello, lo intingo nell'acqua e lo passo sul foglio. Naturalmente io avrò una superficie bagnata e una superficie che non è bagnata. Per cui io cosa faccio? Vado a prendere un poco di questo colore, prendo questo verde e lo vado a mettere qui. Vedete che la tavolozza sempre mi serve e non è necessario che sia pulita perché il colore può prevalere sull'altro in qualsiasi momento, chiaramente nella tonalità chiara, oscura che noi desideriamo. Per cui ci serve sempre la tavolozza che sia un pochino, tra virgolette, sporca per poter attingere anche qual colore che ci può servire. Io lo passo qui sopra. Vedete che io ho un certo tipo di risultanza. Perché? Perché la carta è bagnata. Se io lo stesso colore lo passo qui, dove non ho messo assolutamente l'acqua, vedete che l'acquarello si comporta in maniera completamente diversa. Quindi io metto più acqua o meno acqua a seconda che voglio che l'acquarello abbia più o meno un altro risultato da quello precedente. Ma adesso qui la superficie è abbastanza asciutta perché bastano pochissimi minuti e io posso intervenire con il colore qua sopra e non avrò quell'effetto che ho avuto prima naturalmente. E quindi vedrete che questo colore rimarrà sempre con una dovuta trasparenza, però non andrà ad avere quell'effetto che ha avuto di osmosi completa con l'acqua. Vedete che starà nel suo perimetro della pennellata. Questo è fondamentale. Sono dei passaggi che sono utilissimi per scoprire quali sono i colori che noi possiamo utilizzare e come poterli utilizzare. Perché qui sono naturalmente dei pigmenti e sono gli stessi pigmenti che noi usiamo con l'olio o noi usiamo con l'acrilico o usiamo con la tempera, solo che sono mesticati e sono composti con altri tipi di materiali che li rendono possibili, rendono attuabili e governabili con diversi tipi di diluente. Adesso se io provo a eliminare praticamente quasi l'acqua, otterrò ovviamente una linea molto più scura. Vedete? Chiaramente qua non è asciugato completamente, però vedete che io ho una linea più scura. Sì, lo faccio qui dove non è bagnato. Vedete che io posso unire e posso agire in questo modo perché questo non era bagnato come il precedente. Quindi è una gara fra il nostro segno, la nostra sensibilità, e l'acqua più o meno, in maniera più o meno minore che noi possiamo mettere sulla carta. Ovviamente con grandissima sorpresa, anche se questo è asciutto, noi possiamo a un certo punto, vedete, farlo rivivere anche qua come possiamo farlo rivivere altrimenti. È una cosa che io vi sconsiglio un poco di fare, però certe volte dà i suoi risultati. Ad esempio questo che è ancora un poco bagnato se io passo sopra il pennello ho modo di schiarirlo. Vedete? Di togliergli un po' di colore, quindi di illuminare il segno. Adesso vi suggerisco un esercizio da fare quando si approccia all'acquarello. La prima cosa da fare, infatti, è testare ciò che abbiamo detto poco fa e quindi la sua trasparenza. Prendere un pennello, inumidirlo proprio solo nell'acqua e prendere il pigmento e vedere che tipo di risultanza ha quasi senza acqua o perlomeno con poca acqua. Non state a sottilizzare sulla pennellata in questo momento, dovete solo testare la sua trasparenza. Poi andate con questo pennello sempre sul godet e invece mettete un pochino d'acqua dentro di esso e quindi passate la seconda pennellata. Poi mettete sempre più acqua dentro, sempre più acqua e ovviamente meno pigmento, proprio in maniera molto molto lenta, in modo che la trasparenza o meglio la consistenza del pigmento rispetto all'uso dell'acqua sia palpabile. Quindi queste prove servono proprio per riuscire a farci a farci a farci comprendere come l'acqua sia fondamentale e quindi calcolarne la messa sul pigmento e sul foglio sia fondamentale per questo tipo di tecnica. poi continuate ad aggiungere acqua in questo modo aspettate che sposto un poco questo così vedete meglio e andate sempre di più a bagnare il pennello fino a che praticamente il risultato sarà la trasparenza proprio completa e finale fino a praticamente bagnare solo il pennello nell'acqua e tirarlo fuori da essa in questo modo che vediamo che proprio la trasparenza sia assolutamente completa si avvicini quasi al bianco del foglio. Ecco questo è un esercizio che io vi consiglio di fare. Siate molto decisi, non preoccupatevi se una pennellata viene bene o male. L'importante è che noi in questa fase cerchiamo di avere un approccio per testare proprio la trasparenza del colore e questo potete farlo con qualsiasi colore che voi avete sotto mano e naturalmente anzi è proprio auspicabile che voi lo facciate con tutti perché ogni pigmento si comporta in maniera un poco diversa dagli altri. Questo qua è il primo esercizio che vi suggerisco e vi rimando alla prossima volta. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video, condividetelo sui vostri profili social e commentate sotto la descrizione. Un saluto, un abbraccio e buon weekend a tutte e a tutti. A presto.